La mia stagione quest'anno è stata un po' particolare, un po' difficile perché ho cambiato cinque team e quindi riuscire a trovare continuità non è stato facile, tant'è che non mi ricordavo neanche più il nome dei miei collaboratori, meccanici, facevo un po' di casino. È stato bello perché ho avuto la possibilità di lavorare con tanta gente, ho partecipato a Campionale Italiano, al Mondiale Supersport, al Moto Mondiale Moto2 per la prima volta in vita mia, quindi esperienza fantastica al Mugello, un voto un po' impegnativo, però sono contento perché ho portato a casa due vittorie al Mugello, un po' di Ovalelunga in Campionale Italiano, nel Mondiale cambiando quattro moto è stato difficile, però sono contento perché alle ultime tre gare ho trovato un ottimo team, che è il team Pata Mai Martini, che mi permetterà di continuare anche nella stagione 2013, quindi anche se non ho raggiunto degli ottimi risultati in pista perché è stato difficile, tre gare non ho partecipato, però questo mi ha permesso di trovare un'ottima sella per la prossima stagione. Per il 2013 sto facendo un'ottima preparazione fisica perché sto lavorando con mio papà e faccio il manovale, infatti si vede dalle mani. No, a parte gli scherzi, questa fiera di Milano è stata importante perché sono riuscito a concludere anche le cose più importanti, quindi di cominciare a preparare una stagione invernale con un pochino più di tranquillità. Un saluto a tutti gli amici di Motology, venite qua in fiera che è veramente bello e ci vediamo quest'altro anno. Ciao a tutti!